Ciao ragazzi, oggi vi presento questo fantastico set di costruzioni che si chiama Big Smart Mac ed è della Imaginarium ed è costituito da ben 178 pezzi che stanno qua dentro. Ci possiamo realizzare un aereo come vedete gigante e super resistente come questo ma ci possiamo realizzare anche una motocicletta come vi faccio vedere adesso che ho realizzato qualche giorno fa tutto grazie ad un sistema di viti e bulloni che ci consiglia di attaccare questi pezzi sono realizzati in materiale plastico molto resistente e sicuro per i bambini come attraverso la dotazione anche di due chiavi inglesi così che noi possiamo quindi andare a girare per riuscire a rinforzare quelli che sono gli attacchi dei pezzi quindi vi faccio vedere proprio al volissimo ammettiamo di dover attaccare questo pezzo a questo mettiamo il nostro bullone, lo giriamo all'inizio velocemente con le dita così velocissimamente e poi eccomi eccomi e poi tenendo salto con la mano oppure abbiamo a disposizione anche ben due scusate mi è cascato due chiavi inglesi possiamo stringerlo il più possibile le combinazioni sono veramente interessanti ci sono già nel manuale di istruzioni allegato moltissimi veicoli che possiamo realizzare che piaceranno senz'altro ai bimbi dalla ruspa all'elicottero fino alla motocicletta alla macchina da corsa e via dicendo e poi ovviamente la fantasia è libera per cui sono costruzioni di poter realizzare veramente quello che più vi piace che più vi fa sognare più sono anche molto resistente e quando ho realizzato per esempio la motocicletta il mio bimbo di colloca a 20 mesi ci è anche salito sopra con la giusta prudenza ovviamente adesso andiamo a vedere come ho realizzato questo aereo in modalità speed building per cui lo vedrete in pochi secondi come vengono montati i vari pezzi si è realizzato quindi questo aereo completamente realizzato con il servo di costruzione Big Smart Mac Big Smart Mac il set di costruzioni Big Smart Mac di Imaginarium lo trovate sul sito web di Imaginarium oppure sui negozi dei punti vendita di Imaginarium stesse in giro per l'Italia il prezzo è di 49,95€ e poi volevo anche lanciarvi una sfida se qualcuno di voi può scrivere qui nei commenti cosa potrebbe vedere realizzato con questo set di costruzioni io la prossima volta magari ci proverò per cui aspetto le vostre proposte qui sotto nei commenti e magari ne realizzerò qualcuna con molto molto piacere per informazioni sempre qui sotto nei commenti a questo video o al post del blog e vi aspetto alle prossime per iscrivervi al canale di Giochi per Romani e ragazzi è sufficiente cliccare qui sopra a presto alla prossima ciao ciao Davide